Ciao amici di Fanta Pazzi, oggi vendo tengo scambio come avete visto dal titolo e dalla copertina analizziamo 11 casi, 11 casi di questa giornata detto sempre che comunque si tratta di, sono linee generali perché poi ci sono le leghe a 6, le leghe a 8, le leghe a 10, le leghe a 12 ci sono 4 mondi diversi perché possono avere tantissimi svincolati o giocatori nelle rose completamente diversi l'uno dall'altro il primo diciamo caso, anche se è un caso positivo per chi lo ha in rosa è quello di Vasquez e ecco diciamo che Vasquez 6,60, oltre 6,60 di media 4 clean sheet, un rigore parato, 4 gol subiti e qualcuno mi ha chiesto se ci vedeva delle analogie tra l'Empoli e il Frosinone dell'anno scorso e secondo me non tanto, nel senso che comunque potrebbe anche calare sicuramente l'Empoli che però ha un sistema difensivo, corre tantissimo in questo momento e può darsi che a un certo punto possa non correre così tanto come prima però ha dei giocatori interessanti, i goglicize l'abbiamo pubblicizzato qui nel gruppo nel canale, un video dove abbiamo visto le sue qualità che sono secondo me molto interessanti Viti, Ismaili sta giocando su livelli quasi da Bremer poi torneremo a Bremer, arriveremo a Bremer e quindi rispetto al Frosinone dell'anno scorso che invece aveva Sule, Renier, Ibraimovic, Chedira, tanti giocatori offensivi che poi, tranne Chedira e Chedira che poi è esploso più nella seconda parte sono un po' tutti calati a lui poi si è fatto molto male, insomma, tante volte era una squadra che però si basava molto su una qualità offensiva molto meno quella difensiva, insomma tant'è vero che la partita simbolo fosse stata quel 4-3 con il Cagliari poi nella seconda parte di stagione di Francesco in realtà ha cercato di sistemare ma non era nelle corde di quella squadra l'Empoli è una squadra che invece, nonostante giochi con un attaccante centrale esterno-destro come Giasi riesce comunque a essere una squadra molto attenta e accorta in fase difensiva questo significa che Vazquez secondo me potrebbe continuare perché sta dimostrando di essere, devo dire, anche contro quello che pensavo perché l'avevo visto un po' ad Ascoli e anche se aveva avuto tanti clean sheet non mi aveva impressionato in alcune cose, insomma, nelle uscite soprattutto sta migliorando tanto e in questo momento è in grandissima forma e questo che significa? se lo avete in rosa, non penso se lo avete in rosa addirittura come primo portiere nel senso che avete tre portieri non so, Vazquez, Joronen e un altro che possa essere un Falcone, un Turati un portiere di questo livello qui e di questo tipo di squadre a quel punto cercherei di tenerlo e magari scambiare gli altri o addirittura tagliare gli altri, ad esempio uno Joronen eventualmente se invece avete o avete fatto la coppia di Gea Vazquez che magari per l'abbinamento portiere è buono o avete scelta di Gregorio, scelta di Vazquez, Sommer Vazquez a quel punto potreste sfruttare il discorso di avere questo Vazquez in grande forma e quindi se avete un titolare già forte, lo avete preso solo per avere un secondo portiere a quel punto cercherei di piazzarlo in uno scambio un po' più ampio dove avete le pecchie cercherei di mettere Vazquez in uno scambio per prendere un altro difensore, prendere un centrocampista per prendere un attaccante, insomma quindi queste sono le valutazioni che farei su Vazquez se lo avete come seconda scelta cercate di piazzarlo andiamo a Bremer Bremer purtroppo si è fatto male insomma si è fatto il crociato, ha quasi finito la stagione poi magari tornerà verso fine anno, non lo sappiamo ma chi ha Bremer cosa deve fare? chi ha Bremer cosa deve fare? dipende perché comunque appunto come dicevo prima magari in una Lega 6 e addirittura in una Lega 8 potreste prendere gli smiley di turno che dicevo prima potreste comunque cercare di prendere qualcuno a 12 è già più difficile trovare degli svincolati veri però appunto sempre che stanno da tempo l'Igo Glicize potrebbe essere svincolato oppure un magari un difensore il nuovo difensore dell'Udinese Ture che comunque sta giocando lo stesso Christensen potrebbe essere fuori vediamo poi come andrà avanti il Verona ad esempio che sta giocando con Coppola ha giocato con Coppola e Daniliuc ma comunque c'è sempre Davidoviz c'è sempre adesso ha giocato l'altra volta Ghilardi che secondo me è un ottimo difensore non so se Zanetti però lo continuerà a confermare perché comunque non partiva tra le gerarchie lui potrebbe essere una chance però dire di sostituirlo con lui dopo una partita che ha giocato la prima partita che ha giocato in segra mi sembra un po' eccessivo Gloglicize potrebbe essere già come detto appunto Christensen dell'Udinese possono essere alternative valide però chiaramente mi rendo conto che sono giocatori che non hanno nulla a che vedere con Bremer quindi sostituire Bremer dai svincolati è praticamente impossibile penso in qualunque Lega cercare di introdurlo in uno scambio cioè nel senso di prendere uno scambio per migliorare la difesa se voi avete un avete Bremer e lo avete perso cercando magari di prendere Calulu o Gatti che comunque sono indubbiamente centrali importanti quindi cercherei di prendere uno di loro due in modo da avere comunque il difensore di una squadra che per adesso ha subito solamente un gol e che secondo me continuerà a subirne comunque pochi perché la Juve ha problemi molto ha problemi offensivi e lo vediamo dopo quando parleremo dei due che vedete qui ma non ha problemi difensivi al di là di tutto quindi cercherei di prendere Gatti e Calulu anche perché la Juve non prenderà sicuramente svincolati non so se prenderà qualcuno a gennaio questo lo vedremo dopo quindi cercherei di andare su Gatti e Calulu sacrificando un altro magari scrivetemi anche nei commenti se avete delle intenzioni diciamo per questo video ma anche per questo per farvi scrivere nei commenti che cosa potete fare con Bremer passiamo ad Hummels tanti hanno scritto Hummels che cosa fare perché chiaramente non sta giocando mai lui stesso ha detto che non ci sono immagini con la maglia della Roma perché non ha giocato una partita da titolare e neanche da subentrato però potrebbe essere questa prima della sosta ha avuto il problema comunque l'influenza quindi quello l'ha messo fuori gioco tra l'altro una partita in cui poteva affrontare Duric che poteva essere un discreto duello che cosa fare con Hummels io continuerai a dargli fiducia insomma se avete preso Hummels comunque l'avete preso penso svincolato nel senso che è arrivato a fine meno che non avete fatto l'asta insomma da 10 5 6 settembre in poi ma se l'avete fatta prima l'avete presa diciamo dalla seconda dalla riparazione se l'avete fatta e quindi l'avete pagato immagino poco a quel punto penso che più Hummels è ermoso nonostante è ermoso abbia giocato di più mi aspetto che alla lunga Hummels possa cominciare a giocare è vero che Anghelinio sta giocando molto bene sul come centrale sinistro però Hummels è un giocatore di tale livello che non non penso che sia venuto qui a fare il turista avrà sicuramente delle pecche perché magari lui comunque ha dato tutto in quella stagione scorsa con il Borussia per cercare di addirittura di vincere la Champions è arrivato in finale è stato probabilmente il miglior difensore della Champions League e parliamo di tre mesi fa quattro mesi fa quindi sicuramente può aver passato da svincolato un'estate in cui non si è allenato al massimo come avrà fatto nelle precedenti 20 anni di carriera però mi aspetto che possa tornare quindi io sinceramente a meno che non vi offrono veramente qualcuno dei top un buongiorno un buongiorno lo stesso che diciamo prima Gatti e Calulu Bacerbi Bastoni ma immagino che non lo faranno Pavard allora a quel punto sinceramente me lo terrei per prendere un altro centrale si che magari gioca ma per prendere un Pablo Marie che pure discreto per prendere un Lukumi per prendere ammesso che ve lo offrano non lo farei sinceramente passiamo a Pongracic che però potrebbe essere è sempre stato spesso stato infortunato non si trovava con la difesa 3 potrebbe essere favorito da questo cambio della difesa a 4 che sta provando pallatino insomma i risultati stanno arrivando che è vero sacrifica un po' Gossens ma potrebbe rilanciare è vero che Ranieri e Comuzzo le ultime due partite hanno giocato bene però sono anche giocatori che hanno commesso talmente tanti errori la leadership di Pongracic secondo me può fare bene alla lunga giocando a 4 forse lui si trova meglio e quindi potrebbe essere interessante questo quindi se non lo avete potrebbe anche essere interessante prenderlo in uno scambio proprio in questo momento in cui c'è pochissimo hype su di lui e quindi potreste puntare a uno scambio con Pongracic quindi qui è più un cerco di prenderlo piuttosto che se lo avete naturalmente tenetelo però insomma se non lo avete chiaramente pagandolo poco nel senso scambiando con pochi con un giocatore non fortissimo potrebbe essere il momento di prenderlo perché secondo me con la difesa a 4 potrebbe avere più senso e per come gioca Palladino questa almeno è la mia idea ha più senso Pongracic di Martinez Quarta che è un giocatore un po' troppo svagato difensivamente per piacere a Palladino secondo me per come si è configurata la stagione Ranieri Comuzzo ok stanno andando bene ma Pongracic potrebbe diventare il titolare una volta che tornerà a posto fisicamente qui a Centro abbiamo 5 nomi importanti Orsolini Orsolini un solo gol tratto anche su rigore mi aspettavo che domenica scorsa infatti nel video scorso vi avevo consigliato lui contro il Parma ma invece dopo 45 minuti addirittura è uscito stranamente quindi però insomma Orsolini è un giocatore che con italiano dovrebbe fare veramente bene è un giocatore che tante volte ha avuto dei piccoli blackout quindi diciamo non ci preoccupiamo da quel punto di vista ci può stare il Bognia comunque non volendo ma ha cambiato tantissimo rispetto all'anno scorso magari non ha cambiato tanto gli interpreti anche se ha cambiato anche quelli ma ha cambiato tantissimo il modo di giocare è vero che Orsolini probabilmente dovrebbe essere favorito da questo modo di giocare però è comunque diverso passi da Motta a italiano sono veramente due mondi diversi e Orsolini sta pagando più di tutti no ma insomma più di tanti altri questo cambio onestamente se io avessi Orsolini non lo cederei tante volte hanno mandato anche degli scambi tipo Orsolini Mann e onestamente io non lo farei mi terei Orsolini nonostante Mann sia partito benissimo e anche se adesso qualche partita l'ha un po' toppata ma insomma per adesso ha fatto tre gol ha fatto uno o due assist insomma sta giocando sicuramente a un livello molto alto però terei comunque Orsolini qui Hildiz che comunque l'istato centrocampista sta andando è comunque una una risorsa buona noi lo stavamo centrocampista perché pensavamo insomma abbiamo visto quando non c'era Coppeminer su lui addirittura faceva il tre quarti e comunque fa l'esterno non super offensivo come come gli altri quindi ci sta e da questo punto di vista è positivo per chi lo ha in rosa però se avete comprato Hildiz pensando che fosse a livello di Pulisic come centrocampista no perché non è nelle sue corde non è ancora nelle sue corde non ha la cattivega sottoporta tant'è vero che l'unico che ha fatto ha fatto un gol pazzesco alla del Piero contro gli olandesi del PSV quindi non è ancora un giocatore che ti fa ti ha fatto una bella giocata con il Verona un bel assist alcune partite positive altre in cui comunque ha avuto difficoltà come un po' tutta la Juve in fase offensiva in tante partite è un giocatore molto valido che però comunque sta facendo degli step di crescita quindi che Hildiz potesse fare 10 gol secondo me chi ha detto così pensavo anche ad agosto secondo me era eccessivo quindi vuol dire che se da Hildiz vi aspettate 10 gol allora a questo punto scambiatelo se qualcuno ve lo offre pensando che possa fare 10 gol magari ho freddovi Pulisic non credo però si può mai sapere allora si se invece da Hildiz vi aspettate comunque una bella media voto un 6-20 6-30 di media voto 5 gol 4-5 assist allora quello potrebbe arrivarci durante la stagione quindi da quel punto di vista si Oristanio Oristanio ha segnato l'ultima partita non stava andando benissimo onestamente è un giocatore che anche lui se vogliamo come Hildiz deve migliorare tanto sotto porta andiamo nel fatto che ha segnato domenica ma insomma non è un gol suo sul calcio d'angolo c'è la concorrenza di Yeboah che ancora non è entrato nel vivo che è un po' più offensivo di lui però comunque è un trequartista che può giocare anche addirittura seconda punta lì stato a centrocampo insomma è valido non mi aspetto però anche da lui tantissime reti nel caso potrebbe migliorare durante l'anno però come detto appunto non è tanto concreto sotto porta ecco lì se se proprio avete se magari avete bisogno di un di un giocatore meno meno da bonus ma più concreto allora sì quindi giocatori che hanno il rendimento se vi offrono un giocatore che ha il rendimento lo vedete anche dalle medie insomma dalle medie quest'anno e dalle medie passate giocatori che hanno una media voto sopra sopra il 6-10 sopra il 6-15 sopra il 6-20 che giocano quasi tutte le partite potrebbe essere meglio di Oristanio in quel caso se invece comunque avete già una squadra che gioca giocano tanti e vi volete ogni tanto giocare l'Oristanio da bonus allora potete tenerlo Coopminers prima di Coopminers andiamo su Suslov Suslov non è lo stesso giocatore che abbiamo visto l'anno scorso anche perché con Zanetti non è centrale come centrale non nel centrale nel gioco non nella posizione come era con Zanetti con Baroni e lui è un po' in difficoltà effettivamente un po' in difficoltà è stato anche espulso giustamente a Como però è un po' in difficoltà perché se gioca sulla destra Zanetti comunque sta sprovando tanto livramento poi c'è comunque Castanos che sta dimostrando molto valido c'è sempre Rui che comunque anche lì lui è giocatore offensivo e quindi sinceramente qui Suslov lo venderei nel senso che cercherei di scambiarlo con qualcuno che magari visto l'anno scorso in cui andava veramente molto bene potrebbe essere un'idea vendere Suslov e cercare di scambiarlo con un giocatore più o meno dello stesso livello e che può garantirvi più continuità di bonus quindi cercherei di scambiarlo Coopminers Coopminers se lo avete comprato pensando anche qui se lo avete che facesse doppia cifra di gol era comunque sbagliato ma non tanto per lui ma per il discorso comunque appunto la Juve gioc attacca in una maniera diversa dall'Atalanta lui si trova meno anche se ha cominciato ha preso un palo in Champions ha avuto un paio di occasioni però si trova meno davanti alla porta se vi ricordate facemmo un video sull'Atalanta dell'anno scorso dove tante volte il Zappacosta di turno andava sul fondo e la metteva al centro dove c'erano Luckman e Coopminers a rimorchio e lì Coopminers a Liverpool si trovava tanto vicino alla c'era anche Scamacca naturalmente ma andava molto su lui si trovava tanto a rimorchio quindi al limite dell'area di rigore in cui poteva poi segnare poi segnò proprio la Juve due gol su due gol uno sullo schema di punizioni quindi si trovava molto al limite dell'area con la a disposizione la porta questo con il gioco di Motta al momento è molto difficile vuol dire che Coopminers insomma se pensate che possa fare veramente dieci gol a questo punto cercate di scambiarlo e Coopminers penso che possa essere un giocatore massimo da cinque sei reti poi vediamo almeno su azione quindi però distribuite nel tempo e non è detto che magari queste cinque sei reti vadano anche in Champions League quindi ci interesserebbero poco è un giocatore che comunque non ha più la porta davanti nonostante giochi nello stesso punto davanti con un avanti solo una punta quindi se vogliamo anche meglio rispetto all'Atalanta ma il tipo di stile di gioco che è completamente diverso magari cercherò di farvi anche un video sul Coopminers di Bergamo e sul Coopminers attuale che tra l'altro sia anche infortunato qui lo vedete col dubbio perché è stato salvato ieri ma insomma in realtà doveva avere la croce perché penso che Colazio non gioca almeno Colazio sicuramente non giocherà arriviamo qui alle note dolenti offensive una per il rendimento ma rendimento che l'Ulumbo è veramente devastante a volte perché ha una velocità incredibile ma è un giocatore che segna segna veramente pochissimo incide pochissimo dal punto di vista fantacalcistico quindi buone medie perché le aveva anche l'anno scorso le può avere anche quest'anno però non è da attaccante non è un giocatore che segna tantissimo è un forse un terzo slot ma non non oltre sicuramente e quindi anche qui si potrebbe pensare di venderlo ma chiaramente dovete cercare di trovare qualcuno che vi dà un giocatore che abbia più gol nel nel carniere che possa essere un Krustovic anche lo stesso compagno di squadra piccoli o qualche altro attaccante che ha più gol nel sangue che prende magari qualche voto negativo in più però ha più gol se cercate più gol non è bumbo che ne può fare 4-5 forse ma non tanti può fare qualche assisi in più però questo di realtà si sapeva anche da quest'estate quindi diciamo questo inizio di stagione sta solo certificando questa cosa arriviamo all'ultimo punto che è Zapata mi sono andato a studiare un po' di leghe di chi aveva un paio di leghe dove ci sono gli svincolati e ho visto che comunque svincolati ci può essere in alcune c'è Esposito che sarebbe un buon nome c'è Colombo stesso c'è Davis c'è poco fa volte anche Sanabria poco poco altro qualcuno c'è anche Yeboah che sarebbe anche male a me Yeboah è un giocatore che piace tantissimo anche perché l'ho seguito spesso però che lui non è un bomber in questo momento non è un giocatore che segna tanto quindi sicuramente se avete nella diciamo negli svincolati il giocatore più forte è Esposito cercherei magari di prendere lui Davis già più altalenante non è sicuro del posto Colombo ok a quel punto ma preferirei Esposito se appunto avete qualche altro giocatore scrivetelo nei commenti di maggior livello lo vedete anche dalle quotazioni banalmente che abbiamo messo allora si può valutare anche qualcos'altro però anche lì dipende se la Lega è appunto da 12 o di più o da 8 cambia anche il discorso dei svincolati però effettivamente non c'è tanto altro perché gli attaccanti sono stati presi quasi tutti e quindi questa è più o meno chiaramente nessuno sostituisce Zapata però questa può essere l'idea magari scrivetemi nei commenti se avete qualche dubbio su come sostituire Zapata anche qui come per Bremer eventualmente possibilità di cercare di uno scambio magari avete 500 rampisti di grande livello cercate di sacrificatene uno per cercare di avere un attaccante che possa essere buono e come detto anche questo magari scrivetemelo nei commenti che posso cercare di darvi una mano insomma sperando di darvi la scelta giusta queste sono le 11 scelte in questa sosta di nazionali e spero che vi sia stato utile e come detto appunto lasciate un like se vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti le vostre idee su questi scambi io vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video ciao ciao a tutti